Ad onore in sante ed individuo e trinitatis, ad exaltazione in fidei cattolice ed vite cristiane incrementum, autoritate domini nostri Iesu Christi, beatorum apostolorum Petri et Pauli, ac nostra, na matura deliberazione preabita e divina Ope sepius implorata, ac de plurimorum fratrum nostorum concilio, Beatum, Paulum VI, Asgarium Arnolfum Romero Galdames, Franciscum Spinelli, Vincenzium Romano, Marian Catarinam Casper, Nazarian Ignatian, a Santa Teresia, a Iesu March Mesa, et nunzium sul pritio, santos esse decernimus e definimus, ac santorum catalogu ascrivimus, statuenti seus in universa ecclesia, inter santos pia devosioni recoli de vere, in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Santi. Amen. Amen.